Prima che ti sei a sottere più bella... Tu mi presenti? Tu sei pronto? Parla! Parla! Allora che ti stai ripreso? Vai! Vai! Il maestro Maroncio, il maestro mio, mi dice... Lui! Guarda pure lui! Dice quando combattiamo contro i maschi, devi provare a mettere K.O. Se combatti con una bella donna, fatti mettere K.O. tu. Senza problema! Ehi, il maestro! Bellissima quella! Quindi è il doppio maestro! E' un video! E' un video! E' un video! Mi piaceci bene! Amico... Se sto a riprende... Se sto a riprende... Sì, quello ha del vecchio così, ma... ...ma sto bene... ...ma so che gusto... ...spegniamo le nuove... un po' Grazie Ecco il più piccolo busto Ah no, eccolo qua, oh, oh Da qua, giuri, vediamo questo Grazie 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 Grazie. 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 Grazie per la visione! 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 eh? TV, come è il tempo? Le unità del tempo, TV. Troppo paolo, troppo paolo! Troppo paolo, troppo paolo! Troppo paolo, 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 troppo paolo! Troppo paolo, troppo paolo! Troppo paolo, troppo paolo! Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 No. Grazie a tutti. No. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti! 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 a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! 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 a tutti!